Gilles, 7 e mezzo, il portiere che mancava, bravo con i piedi ma soprattutto con le mani. La sua esperienza ha aggiunto serenità a un reparto che conosce a memoria la categoria, scatta come una molla sul colpo di testa di Lanzafame che avrebbe potuto riaprire la partita. Belmonte, 6 e mezzo, in crescita al pari di tutti i compagni di reparto, l'ex difensore dell'Udinese stavolta ha anche spinto sulla sua fascia, suo l'assist del 2-0 di Calaio, esce dal campo tra gli applausi poco dopo la mezz'ora per un problema al polpaccio, speriamo non sia l'ennesima vittima di Ventrone. Schiavi, 6 e mezzo, dalle sue parti il semaforo sempre rosso, padrone assoluto dell'area rosso-azzurra, cattura ogni cross ma soprattutto guida con i tempi giusti tutta la retroguardia. Ceccarelli, 6 e mezzo, segue le indicazioni di Schiavi e si muove in sintonia con i compagni di reparto, poche sbavature in una partita in cui il Catania ha comunque sofferto poco. Mazzotta, 7, instancabile, anche contro gli Umbri l'ex fluidificante del Cesena è il migliore degli etnei, aggredisce senza sosta la fascia sinistra e vince a mani basse il duello con Parigini. Schiaudone, 7, corsa ma anche piedi buoni, ottimo senso della posizione in fase di impostazione, c'è forse ancora da lavorare in copertura, la catena di destra è quella che nel primo tempo in particolare ha sofferto di più. Rinaudo, 6 e mezzo, detta i tempi della manovra etnea ed ha una mano in copertura anche in difesa, oltre alla tecnica indiscutibile in campo mette anche tanto cuore. Coppola, 7, tatticamente perfetto, con la sua corsa consente a Mazzotta scorribbande che creano continuo scompiglio nella retroguardia Umbra, non solo quantità, dai piedi del centrocampista romano riparte spesso alla manovra etnea. Rosina, 7, geniale e incontenibile, con il suo estro mette sotto pressione l'intera difesa avversaria, assiste Calaio in maniera impeccabile e sforna assista a ripetizione. Calaio, 6 e mezzo, si danna l'anima per tutta la partita, nel primo tempo ingaggia un duello personale con Provedel che ghi nega il gol almeno in due occasioni e forse anche per questo tradisce un po' di nervosismo. La rete numero 14 gli restituisce serenità. Maniero, 7, si muove con grande serenità su tutto il fronte offensivo rosso-azzurro. Perfetta la scelta di tempo che lo porta in gol sulla punizione di Rosina, standing ovation meritata. Krapek, senza voto. Spolli, senza voto. Barisic, senza voto.